È difficile dar consigli perché bisogna darli sul tempo e sulla situazione che noi stiamo vivendo. Quando io ho cominciato a fare il teatro satirico, di denuncia, coinvolgendo la gente, stava succedendo l'ira di Dio in Italia, in Europa, nel mondo. Non bisogna mai dimenticare la guerra in Vietnam, che è stata una cosa gigantesca sul piano politico, culturale. Oggi come oggi rispetto all'ora è molto diverso. Noi qui in Italia, tanto per essere espliciti, abbiamo un governo che si dice di sinistra, che in verità è di destra, che in verità si mette tranquillamente d'accordo con Berlusconi, che è un uomo di estrema destra, con i fascisti vicino, una mappata tutti insieme, tutti per il bene della nazione, per salvarla da un'economia che va a rotoli. Allora si tassano i poveri Cristi, quelli che vanno in pensione, i giovani che avrebbero bisogno di una scuola veramente come si deve, spendere dei soldi per la cultura. Non si spende, si dice che la cultura è una cosa di cui si può anche fare a meno, non si mangia con la cultura. E invece è proprio rovescio, specie in una nazione come la nostra che è cresciuta, diventata famosa per la cultura e per gli uomini di cultura che hanno espresso pensieri che sono stati utili a tutto il mondo. Basti pensare all'architettura, basti pensare alla musica, basti pensare al teatro, alla letteratura. Una cosa una dietro l'altra di partecipazione culturale ed era la nostra forza e soprattutto era qualche spinta che faceva sì che i giovani, tutti quanti, sapevano leggere e scrivere. La quantità di gente che non sapeva leggere e scrivere era periferica, era fuori, nella città c'erano addirittura le università per il povero, si diceva addirittura. Va bene, e davanti a questo straordinario movimento che noi, i nostri padri hanno inventato e hanno vissuto, noi oggi abbiamo un gruppo di dirigenti politici soprattutto che hanno un cinismo spaventoso. Passano da un andamento all'alto, da una situazione di profilo veramente reazionario, si pongono in contatto con i gruppi criminali più orrendi che esistono in Europa e non preoccupa loro se questo è indegno, se è contro la Costituzione, se è un segno definitivo. Lì si lascia tranquillamente, abbiamo un Parlamento che è pieno di ladri, di gente che è stata condannata, di gente che è sotto processo, che in un altro paese civile non sarebbe in piedi un attimo un governo di questo genere, il Presidente gli va bene tutto, un giorno di qua, un giorno di là, un gruppo si sposta, c'è una cacciara terribile, una confusione e gli ubriachi sono naturalmente la gente che lavora, quelli che si vedono tagliare la paga, che sono costretti a dare denaro, mentre i ricchi se ne guardano bene di dare denaro, coprono tutto, riescono a evitare il pagamento delle tasse e ci si promette sempre, ogni momento, guarda che adesso basta, questo qui è l'ultima volta, figuriamoci, si sta crescendo, anche tutti i ricercatori d'Europa dicono che l'Italia è fuori dal pericolo, fra poco saremo veramente presi dal vento come una nave che è colta dalla festa e dalla fortuna finalmente. Invece è bugiardo, è una menzogna, è dare speranza a gente che non ne può avere in un lato di questo. Allora, fare il teatro qui significa dare informazione, cioè far capire che questa gente è bugiarda, ipocrita, non tiene fede a nessuna parola, nessuna promessa, è tutta una truffalderia che viene avanti oscena e quindi bisogna intervenire, l'intervento deve essere attraverso l'ironia, il grottesco, lo sfontò eccetera eccetera, arrivare a scoprire per il pubblico che è sempre molto distratto, che cosa stia succedendo veramente, è quello che facevamo allora, allora eravamo mal visti dal potere in genere, ostacolati e molte volte subivamo violenza proprio perché si funzionava, il segno che il nostro teatro era un teatro con un effetto positivo era proprio il risentimento della classe dominante e qui invece la classe dominante ha comprato gli intellettuali, ha comprato i giornalisti, ha comprato i giornali, corricato, siete sovvenzionati, siamo noi che vi diamo la sovvenzione, siamo noi che decide chi deve essere appoggiato e chi no, state attenti se non parlate bene del governo e del nostro programma, noi vi tagliamo i soldi per poter campare e per stare in piedi, attenti a voi, il ricatto più infame, sei vivo perché io voglio che tu sia vivo, appena dico no, tu sei finito e questo bisogna combatterlo con una tecnica nuova, reinventare e ci sono, fate attenti, in Italia ci sono centinaia di giovani e piccoli gruppi che vengono su con fatica ma lo Stato ha tagliato ogni fondo, ogni possibilità di appoggio, se devono arrivare da soli e allora vanno nella strada, ma nella strada ci vuole un permesso, non si può recitare nella strada, bisogna essere in luogo chiuso e poi c'è il problema dei diritti, il problema di mantenersi, il problema del denaro, il problema dell'accattonaggio pur di campare, la cosa è molto difficile, molto molto difficile, soprattutto perché una volta c'era se non altro qualche partito che appoggiava il teatro e c'erano molti intellettuali che si sostenevano in questa chiave, in questo coraggio che noi avevamo, però io sento che tempo è vicino che succederà una cosa improvvista per un fatto che non era calcolato, succederà qualcosa, perché? Perché siamo preparati, perché la quantità di ragazzi che si muovono e inventano storie, cercano di prodursi e cercano di dimostrare di avere delle idee ci sono, adesso basta soltanto una scintilla che faccia bruciare la prateria. Grazie.